non si può vedere chi è? si un maiale che vuoi? ma dico io una persona civile sai che fa? si prende una ciotolina un tovagliolo e mette dentro... scusa dove stai a coprire allora? no no io non ce la faccio più io non ti sopporto più non ti dimenticare che qua ci siamo sposati hai promesso di amarmi tutta la vita perciò non direi niente certo non ricordo tutta la vita però potevo andare io a pensare che tu dovevi campare fino a mo ma l'hai detto quel giu ma l'hai detto che va a dire? Puuu 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 P as Puuu Puuu